Chi parte subito? Bergamini? Sì, le tasse devono scendere, non potranno, devono scendere. Guardavo il servizio che avete fatto, strozzati dalla crisi. È proprio così. I cittadini italiani oggi hanno una specie di corda che ogni giorno si stringe di più. È così. Troppe tasse, pochi soldi da spendere. Se non spendiamo, non muoviamo l'economia. La nostra crescita, la crescita del Paese, continua a essere negativa. Quindi si accelera questa recessione, sempre meno posti di lavoro, sempre più impoveriti i cittadini, sempre meno tasse che arrivano allo Stato, sempre meno servizi. Quindi cosa promettete voi? Meno tasse? Dobbiamo, assolutamente sì. Niente IMU, mi sembra chiaro, visto che la gente è stata trozzata dall'IMU sulla prima casa. È chiarissimo. Sono tante le storie che io sento qui. Quindi queste sono le vostre promesse, a parte il sentito Berlusconi. L'ho mandato in onda a dire che restituirete, no? Sì. I soldi dell'IMU sulla prima classe, sulla prima casa? Come nessun programma fumoso e generico. È misurabile quello che viene detto. Aboliremo l'IMU sulla prima casa e sui fabbricati agricoli, importantissimo, i sotterreni agricoli. Restituiremo l'IMU 2012, una tassa ingiusta. Grazie. Grazie. Grazie.